E' stata arrestata e condotta in carcere la 47enne, mamma di ben otto figli di Aiello del Sabato, accusata da due di loro di aver segregato in casa la figlia ventenne per lungo tempo, chiudendo la chiave nella sua camera dopo averle legato mani e piedi. Il marito, 46 anni, è stato invece raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese. Quattro figli della coppia, tutti minori, sono stati accolti presso una casa famiglia. Le due sorelle, che accusano la donna, sono state trasferite in un luogo segreto. Altri due ragazzi grandi sarebbero rimasti in casa. Il sindaco di Aiello, Sebastiano Gaeta, è stato nominato curatore speciale dei minori. Diventa sempre più drammatica la storia di maltrattamenti e privazione scoperta da Aiello del Sabato, grazie ad una diciottenne che, per salvare la sorella, ha raccontato tutto ciò che ormai da tempo si verificava nella sua casa. La giovane domenica sera, temendo per la salute della sorella, ha chiesto aiuto ai carabinieri al 118. I militari, giunti sul posto dopo essersi accettati delle discrete condizioni di salute della ventenne visitata dai sanitari, hanno avviato le indagini che sono ancora in corso. Sono molte, infatti, le cose che restano da chiarire e verificare. Pare che in passato già fossero intervenuti i servizi sociali. E se così fosse, per quali motivi gli uffici del Comune si sono interessati a questa famiglia? Nessuno ha compreso che c'era un grave problema. Perché nessun altro, prima della sorella, a cominciare dal padre, è intervenuto per proteggere questa ragazza? A questi ed altri interrogativi lavorano i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino per chiarire quanto prima questa terribile storia che ha scosso la comunità di Aiello del Sabato sollevando sconcerto in tutta l'Irpinia.